Sì, non ci voleva, soprattutto in una fase di gara dove dimostravamo di essere superiori e di stare meglio. Però è arrivato questo gol in contropiede che non ci voleva, che però ci fa capire anche un po' dove bisogna lavorare in Serie A e dove bisogna essere un po' più furbi e cattivi anche in occasioni a favore. Mi dispiace perché comunque portare il risultato positivo a casa, soprattutto nella prima partita qua all'Ara, era importante. Però vabbè, salviamo, come abbiamo detto prima, l'atteggiamento e tutte le cose positive e adesso abbiamo due settimane per preparare la prossima. Noi sappiamo che i nostri tifosi ci chiedono l'atteggiamento giusto e la voglia di fare e di correre. Oggi l'abbiamo fatto. Mi dispiace non aver portato a casa un risultato positivo. Sicuramente con il loro appoggio la prossima partita lo porteremo.